SOS nelle città, nelle campagne, per il weekend bollente che segue un mese di giugno che si è classificato come il secondo più caldo mai registrato in Italia dal 1800, in cui sono anche cadute il 53% di precipitazioni in meno, creando un mix esplosivo per la siccità e gli incendi che si moltiplicano lungo tutta la penisola. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base delle rilevazioni ISAC-CNR che evidenziano una temperatura in Italia nel mese di giugno 2017, superiore di ben 3.22 gradi la media di riferimento. Un'anomalia che, sottolinea la Coldiretti, è la peggiore da 217 anni che, se si fa eccezione, il 2003 anno storico per il caldo e la siccità. Nelle città continua la Coldiretti allarme per i colpi di calore e soprattutto per le persone più a rischio, come gli anziani e i bambini, che per difendersi, suggerisce la Coldiretti, devono evitare di uscire di casa nelle ore più calde, fare bagni e docce con acqua tiepida frequenti o bagnarsi viso e braccia con acqua fresca, limitare l'attività fisica, bere frequentemente acqua e consumare frutta e verdura.